Come ormai da tradizione sul nostro canale YouTube, anche quest'anno siamo arrivati al momento in cui dobbiamo guardare la nuova Barbie Holiday 2023. Quella di quest'anno è anche la bambola realizzata per il 35esimo anniversario delle Barbie Holiday. Io l'ho pagata 29 euro al Conad, so che il suo prezzo sarebbe molto ma molto più alto e spoiler, tutti quei soldi non li vale, ma comunque io voglio collezionarle tutte, voglio guardarle assieme a voi, so che siete sempre molto curiosi, quindi anche quest'anno iniziamo subito questo video. E questa è la scatola della Barbie Holiday 2023. Nella parte frontale troviamo come sempre una vetrina completamente trasparente che ci lascia vedere la bambola all'interno. Lungo i lati della scatola e lungo i bordi della parte frontale troviamo tutte queste stelline e queste palline di Natale, ovviamente dorate, perché come avrete visto il colore predominante di questa bambola è assolutamente l'oro. Qui in basso, oltre a quei decori, troviamo anche la scritta Barbie Signature, che ci dice che è una bambola da collezione. Al centro, con questa finitura effetto specchio dorato, c'è scritto 2023, magia delle feste in diverse lingue e qui sotto il logo Barbie. Invece, in questa pallina completamente bianca, troviamo la scritta 35esimo anniversario, ovviamente in 1500 lingue. Il retro della scatola non ha niente di così speciale, ma è comunque abbastanza carino. Nella parte superiore troviamo come decorazioni di nuovo le stelline e le palline, qui nella parte centrale di nuovo la pallina con scritto del 35esimo anniversario, e nell'altro angolo di nuovo palline e stelline. Poco più in basso, il logo Barbie, con anche scritto 2023, magia delle feste. E in questa parte piena di scritte c'è semplicemente una frase tradotta in tutte le lingue del mondo, che in italiano dice, per 35 anni la bambola Barbie, magia delle feste, ha trasformato i momenti di festa in ricordi preziosi. Ispirato nuove tradizioni familiari e portato gioia al periodo natalizio. Nella parte qui in basso ci fanno vedere tutte quelle che sono uscite in questa linea, troviamo quella con i capelli castano chiaro, troviamo quella con i capelli castano scuro, troviamo ovviamente la Barbie classica qui proprio in primo piano, e poi troviamo quella con i capelli neri che rappresentano le varie etnie. Abbiamo l'asiatica, la latina, la afro e poi Barbie classica. E qui sotto 1500 informazioni che non ci interessano, quindi andiamo subito a deboxarla. E anche questa volta, come sempre, trovo che questa linea di bambole, queste Barbie holiday, siano molto più belle fuori dalla scatola che lasciate in box. Sono sicuramente sempre più semplici e adesso lo vedremo, però ragazzi fuori dal box sono tutta un'altra cosa. Il suo viso è molto semplice, abbiamo ovviamente sempre la carnagione chiara, gli occhi azzurrissimi, un ombretto grigio sopra gli occhi e una leggera perlatura appena sotto al sopracciglio. Le sopracciglia sono molto definite, con anche in questo caso qualche pelleto disegnato, ormai lo fanno in tutte le bambole. Le sue labbra sono aperte in un leggero sorriso, con un rossetto completamente rosso fuoco, e sulle guance abbiamo un po' di blush. Niente di speciale, in questa linea ho visto visi sicuramente più belli, ma anche più brutti. I suoi capelli invece, strano ma vero, sono praticamente la stessa identica acconciatura che fanno quasi in tutte le Barbie Holiday. Da questa parte sono raccolti in questa codina qui sul retro, davanti abbiamo tutta questa parte che scende lungo il volto, ma se li guardiamo dal retro la croccantezza si spreca. Sono praticamente dei biscotti spiaccicati. Non so se si riesce a notare, ma sono come sempre un disastro. E se andiamo a tirarli, vediamo che sarebbero anche abbastanza lunghi. La fibra è buonissima perché sarebbero molto morbidi. In questa parte dove manca il gel si sente che sono davvero molto morbidi, ma sono... dire che sono dei tentacoli croccanti è fargli un complimento. Quindi disastro totale. Sulle orecchie indossa questi orecchini che io personalmente non avevo mai visto, ma potrebbero comunque essere riciclati. E sono a forma di stella, completamente dorata, molto carina. Mi piace anche perché non è la solita stellina, ma ha una forma che mi piace, è una stella molto particolare. Ma scendendo a guardare il suo look, la prima cosa che notiamo è anche quella più criticata, è questa mantellina, che è realizzata di semplice tulle bianco plissettato, tutto completamente plissettato dall'inizio alla fine, agganciata al suo collo tramite questo nastrino bianco, che poi scende lungo il suo seno. Devo dirvi che questa mantellina a me, ragazzi, non dispiace. Trovo che dia un minimo dettaglio in più a questa bambola, che probabilmente senza questa mantellina risulterebbe davvero semplicissima. Sono d'accordo che come le vediamo in scatola, e quindi con la mantellina praticamente chiusa in questo modo siano terrificanti, ma con questa mantellina leggermente più abbassata e aperta, che lascia intravedere il seno, secondo me è molto carina, perché va solamente a coprire leggermente le braccia, arricchendo un pochino il look. Se facciamo finta che non ci sia, come vedete risulta molto 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 più semplice. Il resto del suo vestito invece è tutto un pezzo unico, ma anche questo ha un dettaglio che mi piace veramente molto. E mi riferisco a come è stata realizzata la parte sul busto, che mi piace davvero moltissimo, perché è super fasciante in vita, con questo tessuto oro tutto luccicoso, ma non è glitterato anche se lo sembra, quindi non perderà mai glitter, ma la parte sul seno mi piace davvero da impazzire, perché oltre ad avere quasi tutto il decoltè scoperto, ha anche questo scollo qui al centro, che lascia intravedere un pochino le tette, anche se lo guardiamo di profilo e di tre quarti, devo dirvi che questa forma di corpetto mi piace davvero da morire. Oltre ad avere dello scotch che tiene attaccato questa parte sulle tette, abbiamo anche due spalline di silicone, per fare in modo che non possa mai scendere e mai cadere, quindi per fortuna non le potrà mai succedere un incidente sconveniente durante il giorno di Natale. La sua gonna invece è molto ampia, anche questa tutta dorata, realizzata semplicemente su due strati di tessuto. Il primo è questo tulle bianco trasparente, con tutte queste stelline disegnate con dei glitter dorati, in questo caso sono davvero solo glitter incollati e infatti ne perde un pochino nella scatola o comunque anche sulle mani toccandola, ma ovviamente per me questa finirà subito in vetrina e quindi se perderà i glitter li perderà in vetrina. Nella parte inferiore di questo primo strato c'è un altro pezzo di tulle, in questo caso senza i glitter, solamente bianco trasparente, che però se nella parte superiore la gonna fa questo effetto un po' a campana, nella parte inferiore ha questo effetto invece più volant, molto più voluminoso anche se molto ma molto più semplice. Qui devo dire che forse avrei aggiunto qualcosina, perché a vederlo così è davvero tanto spoglio. Sollevando questo tulle l'unica cosa che ci rimane da guardare è il tessuto che hanno utilizzato per la gonna vera e propria, che sembra un raso molto rigido, ma più che rigido sembra un raso molto spesso, perché ha veramente un bello spessore, è leggermente satinato, che devo dire per quanto semplice non mi dispiace. Sotto purtroppo non c'è assolutamente nient'altro. Le sue scarpe sono completamente dorate, molto carine, con un intreccio sulla caviglia, delle righine sulla punta, e oltre ad avere un tacco molto bello, che mi piace un sacco, non so perché, ma questo tacco mi piace davvero tantissimo, c'è anche un dettaglio della cinturina che è stato creato proprio all'interno dello stampo di queste scarpe. L'ultima cosa che vediamo che arriva con lei, oltre al fatto che le hanno messo lo smalto rosso sulle unghie, è questo bracciale completamente dorato, ma anche in questo caso, credo sia stato realizzato appositamente per lei, perché sembra composto da tutte queste stelline, e la forma delle stelline è assolutamente identica a quelle che ha sul vestito, e alla forma che hanno i suoi orecchini. Con lei arriva ovviamente anche il certificato di autenticità, dove vediamo qui nella parte superiore il logo Barbie Holiday 2023, e invece qui in basso troviamo scritto questo certificato garantisce che la tua Barbie Magia delle Feste 2023 è stata creata grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel. L'ultima cosa con cui arriva è lo stand, che è uno stand nero semplicissimo, sotto e vuoto, ma con l'asta a seduta, perché lei avendo il corpo Model Muse, si incastra perfettamente in questo stand, che sparisce sotto la sua gonna. Questi sono gli stand che io preferisco in assoluto, probabilmente perché amo i corpi Model Muse. Quindi che dire, sicuramente non è una bambola wow, è carina, è una bella bambola, non si merita sicuramente troppi complimenti. Secondo me vale esattamente il prezzo che l'ho pagata, quindi 30 euro, 29-30 euro, di sicuro non 65 euro, che sarebbe il suo prezzo iniziale di vendita. Devo ripetere che amo la follia, la forma di questo corpetto, mi piace davvero tantissimo, e che contrariamente a tutto quello che si pensava, che forse ho detto anch'io in qualche Dolls News, questa mantellina che inizialmente sembrava una scemata, secondo me invece le dà davvero quel tocco in più. Basta ovviamente metterla in un modo adeguato. La gonna è sicuramente troppo semplice, carina l'idea delle stelline glitter, ma per il resto è di una semplicità veramente allucinante, quasi esagerata. Gli unici accessori che ha, quindi gli orecchini e il braccialetto, non sono nulla di speciale, ma comunque sono carini, e per fortuna sono stati inseriti. Abbiamo visto Barbie Holiday che non avevano nemmeno queste due cose. Avevo già finito di registrare questo video quando è arrivata questa. Ebbene sì, un'altra Barbie Holiday, ma quale sarà in questo caso? Dal video acquisti l'avete già visto, ed è esattamente lei. Un'altra versione delle Barbie Holiday di quest'anno, che come vedete è praticamente quasi identica, se non per un paio di cose, che adesso vediamo subito ovviamente. La prima cosa, che poi è anche il motivo per cui ho scelto di acquistarla, perché mi piace da wow, è il suo viso. Questo viso mi piace da morire. Mi piace il mold, mi piace la stampa, mi piace la carnagione, perché lei è una carnagione un pochino più scura, molto più latina, i suoi occhi sono castani, ma molto allungati, con sopra un trucco molto pesante, molto scuro, con dell'oro nella palpebra mobile, del grigio scuro nella palpebra fissa, delle ciglia lunghissime, una perlatura sotto al sopracciglio, le sopracciglia sono molto definite, sulle guance un po' di blush e sulle labbra un rossetto rosso, ma le sue labbra sono chiuse e i suoi lineamenti sono bellissimi. Anche guardandoli di profilo, di tre quarti, io questa bambola la trovo meravigliosa. Mattel secondo me doveva usare un pochino di più ed utilizzare questo viso come viso base per le holiday di quest'anno, ma l'importante è averla recuperata. Anche i suoi capelli sono completamente diversi con fronte a quella che voi avete visto qualche secondo fa, e per me più di una settimana fa, perché oltre ad essere di questo biondo scuro, loro la chiamano castano chiaro, ma questo a tutti gli effetti è un biondo scuro, sono raccolti in una coda altissima e qui davanti hanno questa bombatura molto alta, molto voluminosa, realizzata anche molto bene, ha un leggero velo di gel giusto per fissare questa parte qui davanti, ma nel suo caso, se guardiamo i capelli del retro, sono perfetti, sono davvero fantastici. Non hanno alcun tipo di gel, non hanno alcun tipo di nodo, hanno solamente questo leggero mosso che io trovo essere anche molto carino, e sono perfetti, dovrebbero essere tutti così i capelli delle Barbie Holiday, e non solo le Holiday. La mantellina è esattamente identica a quella vista in precedenza, il vestito è esattamente identico a quello visto in precedenza, la gonna pure, tutto completamente uguale. L'unica altra differenza sta nella posa delle braccia, perché la bambola classica, diciamo così, ha il braccio destro piegato e la mano appoggiata in vita, invece il braccio sinistro è completamente disteso, invece la versione latina ha entrambe le braccia piegate con le mani appoggiate in vita. Io ragazzi, devo dire che le trovo molto belle entrambe, ma soprattutto lei, lei è spettacolare. Non vi faccio altri confronti, perché ovviamente se scendiamo, come vi dicevo prima, il vestito, le scarpe, lo stand, gli orecchini, il braccialetto, è tutto, tutto, tutto completamente identico. Però adesso che ho fatto questa piccola aggiunta a questo video, ditemi voi anche quale preferite, perché sono molto curioso, preferite la classica o la versione latina? Io vabbè, che ve lo dico a fare, la versione latina, anche se comunque devo dire che anche a riguardarla, la versione classica è molto, molto, molto carina. Quindi se l'anno scorso non sono riuscito a fare il raddoppio, visto che mi sono lasciato sfuggire la versione esclusiva con i capelli rossi, quest'anno ho deciso assolutamente di non aspettare troppo, e di acquistare anche la versione che secondo me è ancora più bella, a confronto a quella classica. Come vi dicevo nella chiusura del video che avevo già registrato, ma che ovviamente adesso dovrò cancellare, perché la rifacciamo esattamente in questo momento con loro due assieme, non mi aspettavo sicuramente molto di più da queste bambole, perché avevamo comunque già visto quello che erano, avevamo già visto cosa indossavano, avevamo già visto tutto. L'unica cosa che però devo ammettere, è che su una bambola per il 35esimo anniversario, quindi in teoria per un evento importante, mi sarei sicuramente aspettato qualcosina di più, qualche dettaglio, qualche accessorio, qualsiasi accorgimento in più che in queste bambole purtroppo non c'è. Ve le consiglio sì, ve le consiglio ad un prezzo come quello a cui le ho acquistate io, perché bene o male sono riuscito ad acquistarle entrambe lo stesso prezzo, lei l'ho presa a 30 euro, come vi ho già detto durante il video, al Conad, lei invece l'ho acquistata sui 40 euro su Vinted, il prezzo che c'è su Amazon di 65 euro, io ve lo lascio comunque qui sotto in descrizione, ma trovo che sia veramente esagerato. Sono due belle bambole e quindi sì, per un prezzo decente, secondo me sono comunque molto belle da tenere in collezione, soprattutto se come me amate le bambole di Natale e magari le collezionate pure. Quindi adesso non mi resta che aspettare di sapere voi chi preferite tra le due, scrivetemelo qui sotto dicendomi hashtag classica o hashtag latina, così io capirò subito quale sarà la più votata. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, che vi abbia fatto vedere qualcosa che non conoscevate, insomma qualsiasi cosa di positivo. Se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va, come sempre, seguitemi su tutti i social con i nomi Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.